Sto per iniziare la diretta, ciao! Madonna con True Blue, tre minuti dopo le 21, buona serata da parte di Alessandro De Gerardis, buon sabato sera, c'è Luigi Giudici alla parte tecnica, dopo Roberto Fragomeno che vi ha condotto dalle 18 alle 21, eccoci qua pronti per affrontare l'ultimissima parte del sabato che ci porterà anche fino alla prima mezz'ora della domenica perché ci saluteremo a mezzanotte e 30, abbiamo code per traffico intenso, attenzione sulla 7 allo svincolo di Assago in uscita per le provenienze da Genova, code anche sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 35 dei Giovi e il Bivio con la 7 in direzione nord, terminate le code sul tratto urbano della 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima e poi tanti tratti interessati dal vento e dalla pioggia, il vento lo troviamo sulla 10 tra Genova-Pra e Fine con Pranare-Savona, sulla 12 tra Genova-Nervi e Sestri-Levante, su tutta la Firenze-Pisa-Livorno c'è una previsione di neve che riguarda la 1 tra Rioveggio e Barberino di Mugello, vento forte sulla diramazione per Pisa, sulla 12 vento forte tra Pisa-Centro e Rosignano, vento forte anche sulla 24 tra Tivoli e Vicovaro-Mandela, piove in a 1 tra Cajanello e il Bivio con la 30 a Caserta-Salerno, piove sulla 14 tra Civitanova-Marchi-Macerata e Roseto degli Abruzzi, pioggia in a 14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, ma piove anche dopo tra Poggio Imperiale e Taranto Nord, pioggia in a 16 tra Baiano e Candela e anche tra Candela e Bivio con la 14, sta piovendo anche sulla 30 a Caserta-Salerno tra Sarno e il raccordo Salerno-Avellino. Detto questo, dette le principali notizie, siamo pronti per affrontare questo lungo viaggio? Spero di sì, buona serata ancora e continuiamo con la musica. Allora, chi vuole mi ascolta per radio, sintonizzatevi su Riso Radio, saremo insieme fino a mezzanotte e 30. Ciao, buona serata, buon sabato.